Orfini, parola di Di Maio inaffidabile Roma, 27 apr Sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio, in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle unioni civili. . Perché i Cinque Stelle non decidono autonomamente, rispondono alla casaleggio associati, con cui hanno persino firmato un contratto. Così il presidente del PD Matteo Orfini, ospite di Lili Gruber a 8 e mezzo sulla 7. Io non credo ha proseguito che spetti al PD oggi fare una proposta per il governo del paese. Credo che ci spetti lealtà e onestà nei confronti di chi ci ha votato. E per me Salvini e Di Maio sono la stessa cosa, opposti della sinistra. Vedremo se alla direzione del PD troveremo una sintesi a detto ancora Orfini tra le varie posizioni, molto diverse tra loro, o se faremo una conta. Non era possibile organizzarla prima del 3 maggio perché in direzione abbiamo anche gente normale, che lavora o che studia, hanno bisogno del tempo per potersi organizzare e venire a Roma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.